E allora a Giuseppe Conte, a Giorgia Meloni, a Matteo Salvini noi diciamo no al vostro gioco al massacro contro l'Italia, noi non ci stiamo. Avete messo a rischio l'Italia con questa crisi? Non ci riuscirete una seconda volta perché ogni voto dato ad azione, ogni voto dato a Italia Viva, ogni voto dato a Calenda sarà un argine. Contro la vostra irresponsabilità è un muro contro il vostro scarso senso dello Stato. Ogni voto dato a noi sarà un voto per un'Italia che continua a proteggere i suoi cittadini con la forza tranquilla della serietà e della responsabilità. Ce la faremo. Grazie.